Proseguono le polemiche ad Umbertide per la nascita del nuovo centro culturale islamico. La notte scorsa però si è andati oltre. Forse una ragazzata, un tentativo di intimidazione riuscito indubbiamente male a coloro che con del gasolio hanno tentato di dar fuoco all'ingresso del cantiere. Proprio dove è posizionato il cartellone di inizio lavori della moschea è stato gettato del gasolio, che a differenza della benzina non alimenta alcuna fiamma. Il tentativo maldestro ha provocato solo del fumo, non causando fortunatamente alcun danno. Sta di fatto che l'inasprirsi del dibattito politico sta esasperando gli animi e si teme che questi episodi possano ripetersi. Questa volta è andata bene, anche forse per l'inesperienza degli autori del fattaccio. Se tutti quanti abbassassero i toni forse si farebbe il bene comune. Da puntualizzare, come ha affermato l'imam di Umbertide, che il centro islamico sarà realizzato in due stralci. Una prima fase da 160.000 euro ed una seconda di 100.000 euro. Tutti i soldi derivano da donazioni di fedeli all'Islam. Il denaro, ha precisato, è stato raccolto nell'arco di 20 anni e nessun euro è stato ricevuto al di fuori della comunità islamica. La tensione resta alta su Umbertide, dove si concentrano anche le polemiche legate a quanto accade a livello internazionale, ma che con l'iniziativa del centro culturale ovviamente non hanno nulla a che fare. Resta un clima di preoccupazione diffusa e l'esigenza sentita di controlli.